Tromboli è come una fitta al cuore, quando vai in un posto e senti che ti piace. Per spiegarlo semplicemente è come una bottiglia di Dom Perignon. L'attività esplosiva dipende sempre dalla pressione interna. Tromboli al centro del basso Tireno, perciò si vede l'Etna a volte. Il vulcano non scoppiava, non scoppiava a quei tempi.